Mari Centad è una vera e propria eccellenza nel sistema difesa italiano, ha sede a Taranto nella storica sede di San Vito, dove avviene l'addestramento avanzato degli equipaggi e della formazione specialistica del personale della Marina Militare Italiana di tutti i ruoli e categorie, tranne quelli delle forze speciali. Qui sono concentrate tecnologie avanzatissime con simulatori allo stato dell'arte per l'addestramento sintetico di flotta, l'allenatore tattico, il simulatore navale integrato, il simulatore postazione integrata di condotta nave e anche nella sede di Punta Pizzone in Mar Piccolo il simulatore antifalla, antigendio e di piattaforma. 500 militari e una quarantina di civili che in stretta collaborazione con il centro di programmazione della Marina Militare Maricent Prog, che ha sede anche a San Vito, che effettua attività di sperimentazione, sviluppo e gestione dei codici software e dei sistemi data link. Consegnano agli equipaggi quella formazione specialistica, assolutamente necessaria alla conduzione di navi sempre più performanti dal punto di vista tecnologico. Basti pensare all'innovativo sistema di conduzione dei pattugliatori d'altura della classe Town de Revelle. Recentemente, attuando le necessità della squadra navale, il centro ha diversificato e internazionalizzato la sua offerta formativa per garantire un proficuo scambio di esperienze, volto al miglioramento con una serie di contatti, anche e soprattutto con le marine Nato e Amiche. Da Maricentad la valutazione anche delle fasi di condotta degli eventi addestrativi, come accaduto nella recentissima e complicata Mare Aperto, condotta dal mare e in mare dalla squadra navale italiana.